Benvenuti nel mondo degli orologi Klerk. Klerk è una casa svizzera di orologi di lusso fondata nel 1874 a Ginevra, in Svizzera. Da allora, il marchio ha una lunga tradizione nella produzione di orologi di alta qualità, con particolare attenzione ai dettagli di design, alle tecnologie innovative e alla precisione. Il marchio è noto soprattutto per la sua produzione di orologi subacquei di alta gamma, dotati di resistenza all'acqua fino a 1000 metri. La collezione Idroscaf è la linea di orologi subacquei di punta del marchio Klerk. La collezione si caratterizza per un design innovativo e sofisticato, che garantisce una perfetta leggibilità in tutte le condizioni di immersione. La linea Idroscaf è stata concepita per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore subacqueo, ma anche degli appassionati più esigenti. Oltre ai modelli subacquei, Klerk produce anche una vasta gamma di orologi da polso eleganti e sofisticati, come la collezione Odyssey, la collezione CXX Cuba e la collezione Airborne. Ogni modello presenta un design unico e una tecnologia avanzata, che garantiscono una perfetta precisione e affidabilità. Klerk utilizza solo i materiali più pregiati nella produzione dei suoi orologi, come l'oro, l'acciaio inossidabile, il titanio e il carbonio. Ogni modello è spesso decorato con diamanti e altre pietre preziose, conferendo loro un aspetto lussuoso e sofisticato. Il marchio si distingue per la cura dei dettagli e la precisione nella lavorazione dei materiali, che conferiscono ai suoi orologi un'alta qualità e un'eleganza senza tempo. Klerk è un marchio svizzero di orologi di lusso noto per la sua produzione di orologi subacquei di alta gamma, ma che offre anche una vasta gamma di orologi eleganti e sofisticati. I movimenti degli orologi Klerk sono altamente precisi e affidabili, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e alla meticolosa attenzione ai dettagli nella loro produzione.